Tutti, mi cado, amica, guarda Marco, salamini, vittorini posso fare una cosa? Voglio farla con te, un bacio, oddio mamma mia, dai va bene facciamolo sto bacio, lo facciamo, aspetta, come faccio? No ma allora dobbiamo fare le cose per bene, facciamolo vedere alla Luzzi che muore di gelosia, collegatemi con la Luzzi che voglio farglielo vedere così diventa pazza, allora aspetta, aspetta che ci colleghiamo, siete collegati siete? Luzzi ci vedi? No ma ci devi vedere anche, quanto sei bello! Mi stai vedendo? Guarda, devi sapere che la Colmenares mi ha fatto una proposta indecente, avrei voluto dire di no ma dopo quello che ho sentito tra te e Hollywood ti rispondo così No, 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 no Non avrei mai voluto.